Possenti, cos'è il Gipsy? Il Gipsy è un nuovo sistema di telesoccorso e teleassistenza che abbiamo cominciato a sperimentare sul nostro territorio dopo dieci anni di servizio di telesoccorso e teleassistenza sui nostri anziani e disabili. È un servizio che consente all'utente di essere monitorato e di poter uscire in sicurezza anche al di fuori della casa e mette in tranquillità anche i familiari. È rivolto soprattutto agli anziani che hanno un limitato grado di autosufficienza e soprattutto agli anziani che vivono da soli. È un servizio che mette in immediata comunicazione l'anziano in situazione di pericolo con una centrale operativa che è attiva 24 ore su 24 e che si mette in contatto con tutti nell'eventualità di un soccorso immediato con tutti gli organi competenti, familiari compresi. Come ci si accede? Si accede facendo domanda ai nostri uffici di servizio sociale previa una graduatoria che vede comunque favorire i redditi più bassi. È un servizio comunque che viene reso per adesso ai nostri 40 utenti in maniera del tutto gratuita. Redditi più bassi sono redditi reali o redditi Isee per esempio? Sono redditi Isee anche se in questo caso andiamo a favorire proprio le pensioni minime. La zona territoriale coperta qual è? Sono i nove comuni del comprensorio della comunità montana Gran Sasso che vanno da Castelli, Castelcastagna, Colledara, Isola, Tossicia, Montorio, Pietracamela, Fano e Cronialetto. Quelli dove magari è più difficile arrivare o dove è più difficile spostarsi per regarsi poi in ospedale per un'emergenza? Sicuramente e anche quelli dove lo spopolamento vede la popolazione in età attiva lavorativa andare sempre di più verso Teramo, verso le zone maggiormente industrializzate e gli anziani rimangono gli unici sia a presidiare il territorio sia a richiedere servizi. Questo è un servizio che noi abbiamo inteso dare in aggiunta a tutti quelli che già diamo. Grazie.